bene allora benvenuti quella è palestrina diventata famosa per Pierluigi da palestrina il più grande esponente della polifonia ricasso mentale papà mi sembri wikipedia poi quando leggo palestrina mi immagino una palestra piccola per i pesetti la palestrina papà no 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 ferma ferma perfetto così c'è anche lei ma quanto facciamo la sigara e le bimbo? chi facciamo la sigara? dai le amiche stonze ce le abbiamo avute tutte venite qua facciamo un selfie comunque sei bellissima anche voi siete molto bella avete una pelle perfetta è da tanto tempo che ti volevo ringraziare se non mi rispondevi non stavamo qua dai che però un po' tu e papà ve la siete studiata no 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 papà è così come sembra non sapeva niente di social è vero ha sempre fatto tutto simonni ha aperto il profilo fa tutto lei quindi saresti tu il genietto che ha trasformato quello sfigato di tuo padre in un influencer ma no dai no non è uno sfigato è un accollo sì sì è un accollo però come ho fatto da padre e da madre